Buongiorno e buon anno. La rete ci permette adesso di essere molto più in contatto. Non avrei mai creduto che si potesse andare online con dei saluti e degli auguri, ma soprattutto con quello che io mi riprometterei di un contatto costante. Gli auguri di buon anno vengono nel momento di difficoltà, perché certamente l'anno non comincia bene, il petrolio a oltre 100 dollari vuol dire un sacco di difficoltà per tutti. Questo è soltanto un esempio dei problemi che ci troviamo davanti. Però io penso che noi abbiamo la forza per andare oltre, per vincere questa sfida, perché con le rinnovabili si può fare tantissimo e con questo noi avremo anche una possibilità di riprendere in mano il nostro destino, le nostre forze e in particolare con una proposta forte che io voglio portare avanti di una disciplina dell'emissione di gas effetto serra e che porti ad un maggiore controllo, ma anche più giusto. E questo è possibile e sarà uno dei miei sforzi nel corso dell'anno. Un saluto a tutti.